Ciao Mellon, rieccoci qui con un nuovo approfondimento. Oggi parliamo della nuova traduzione del Signore degli Anelli, giusto per sapere se è davvero adatta a tutti, se è adatta anche ai dislestici e se potrebbe essere un buon regalo di Natale. Oggi con me c'è di nuovo Nenya e la traduttrice Costanza Bonelli. Ciao Costanza, ciao Nenya. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, anzi. Allora Nenya, cosa ci puoi dire tu della traduzione, dato che l'hai letto? Allora, io parlo come lettrice prima di tutto, perché io non sono una traduttrice, non posso darvi quindi un parere da professionista del campo. E vi racconto così molto in breve come è stata la mia storia. Io ho sentito parlare di questa traduzione quando è uscito l'annuncio già nel 2018 e sono stata subito incuriosita dalla cosa, perché mi sembrava una bella idea, ero impatiente di leggerla anche perché comunque c'è stata promessa come una grande traduzione, una traduzione finalmente all'altezza dell'opera originale. Insomma, ho detto io, sicuramente verrà la pena comprarla. Quando poi è uscito il primo volume, l'ho acquistato, ho cominciato a leggerlo, ma proprio con la mente aperta, credetemi, cioè non è che avessi pregiudizio cose. Quindi non avevi visto tu l'anteprima della poesia dell'anello e del primo capitolo quando hai preso il libro? Ho visto l'anteprima della poesia dell'anello ed effettivamente mi avevo lasciato qualche dubbio. Però dico, comunque voglio leggere, voglio vedere, mi interessa. Del primo capitolo sapevo che era stata diffusa l'anteprima, ma non l'ho voluta leggere per il semplice fatto che io solitamente sono allergica alle anteprime. E quindi avevo già letto quella della poesia, che diciamo, la poesia l'ho giudicata senza infamia e senza lode, se così si può dire, ma d'altra parte io di poesia non so niente. Per cui ho detto, va bene, ha tradotto così. Più che altro non mi convinceva quell'aule scritti in maiuscolo, ma a parte questo. Che pare nel volume unico sia stato corretto. Ah, ok. Quindi niente, compro sto libro il prima possibile. Avevo sentito anche delle polemiche, però francamente a me non interessava. Volevo vedere con i migli occhi, proprio dalla lettrice. Prendo sto libro e comincio a leggerlo. A onor del vero ho saltato il prologo, vi devo dire la verità. Classico. Perché per una che conosce già la storia, non che il prologo non sia importante, però... Niente, comincio a leggere. Già al primo capitolo trovo degli inciampi. Cioè, che cosa intendo per inciampi? Termini strani che mi suonavano fuori contesto o che non capivo. Già dal primo capitolo. Questa sensazione è andata sempre di più peggiorando nel corso della lettura. Al che a un certo punto io ho detto, qui qualcosa non va. Perché? Io non avevo mai letto i libri lingua originale, dico la verità. Avevo sempre letto soltanto la traduzione italiana. Però, e qui vorrei anche spatare un mito, diciamo così. Non è che io avevo la fissazione della traduzione vecchia perché i nomi... Sì, sei cresciuto con quei nomi. Allora, questa cosa può valere per tante altre persone. Per me, no. Per il semplice fatto che io, il signore Adrianelli, l'ho letto anche relativamente tardi. Per cui, poco dopo che l'ho letto per la prima volta, la vecchia traduzione ovviamente, già ho cominciato a vagare per siti internet, cose che spesso erano in inglese, per cui io conoscevo gran parte della nomenclatura inglese prima di leggere sia la nuova traduzione che prima di acquistare il libro in originale. Una volta che tu sai l'esistenza della nomenclatura inglese, non ci cambia la vita una traduzione diversa di un nome, di due nomi, di dieci nomi. O almeno per me ha funzionato così. Quindi non è un problema di nomi, non è un problema dell'essere troppo affezionati alla vecchia traduzione, perché ho notato che questa critica si fa continuamente come se quello fosse l'unico metro di giudizio. Sì, questo è vero. Per me no, non è stato l'unico metro di giudizio, per me di giudizio, per me i nomi vengono dopo, perché ripeto, se tu già conosci gli originali, non ti fa il problema, se tu sai che Gran Burrone si chiama Rivendell, non ti fa il problema che poi ti trovi Valforra. Il problema sono stati questi termini, questo fatto che comunque a volte anche alcuni passaggi, poi magari farò degli esempi, non lo so, che proprio come sono stati tradotti mi suonano forzati in italiano, come se non stessi leggendo un test in italiano, cioè tipo che zoppica. Per cui ho detto, qua qualcosa non va, perché voglio dire, io l'originale non l'avevo mai letto, ma mi pare strano che un autore così apprezzato a livello mondiale, un filologo, un amante della bellezza della lingua, della sonorità della lingua, come Tolkien, poi la traduzione italiana, che dovrebbe essere finalmente all'altezza, ti dà questa cosa qui, che tu continuamente nella lettura vai a sbattere contro il muro e ti si rompe la sospensione e l'incredulità. Cioè, io dico, io non credo che in originale... Guarda, ti terroppo solamente per dirti che, oh, finalmente qualcun altro che ti dà fuori la sospensione di incredulità, finalmente qualcun altro... Sì, per me è stato così, credimi. Io poi ho comprato l'originale, ho cominciato a leggere, ancora ho letto poco dell'originale, perché a un certo punto che ho fatto, mi sono presa di potenza, ho cominciato a confrontare la traduzione, l'originale e la vecchia traduzione, dizionari alla mano, non un dizionario, ma tanti dizionari, uno cartaceo, anzi due cartaceo, un italiano, un inglese, tanti dizionari online, tra cui un dizionario etimologico, insomma, ci ho fatto un po' anche io il lavoro, perché dico, non sono del campo, io certe cose non le so, che faccio? Faccio ricerca. E cosa scopro? Che ci sono diversi casi in cui l'originale scorre tranquillamente e la nuova traduzione no. E quindi io dico, perché? Questo è l'interrogativo che io ancora continuo ad avere. Perché la scelta di certi termini? Cose che stonano, che sembrano fuori contesto. Perché? Questa è la mia grande domanda. Eh, questa è proprio la grande domanda di tutti, nel senso che anche quando uno fatica ha fatto giusto lunedì un intervento a questa conferenza a Trento, convegno continuo, veniva in mente il concilio di Trento, scusate ragazzi, storia si fa sentire, ma a questo convegno a Trento ha fatto un intervento dove, di nuovo, perché poi lui tira fuori spesso e volentieri sia a Mantua, sia al Salone del Libro, ha tirato fuori sempre molto spesso gli stessi punti. Parlando del fatto che comunque la lingua di Tolkien è una lingua complicata, perché lui era un filologo, perché lui era un appassionato di letteratura, era un professore di letteratura piuttosto importante, era uno che comunque amava la lingua anche nella sua varietà. E tutto questo può anche essere vero. Però quella difficoltà che dici te di Tolkien, comunque Tolkien, quando ha scritto Lobby e il Signore degli Anelli poi, stava scrivendo delle storie, stava scrivendo letteratura, stava scrivendo un romanzo. Quindi qual è, ed è narrativa, qual è l'aspetto principale della narrativa? L'aspetto principale della narrativa è prendere il lettore, portarlo in un altro mondo e portarlo in giro col protagonista lungo tutto il percorso dei protagonisti. Senza mai farlo uscire, cioè, la mia idea di lettrice accanita da quando sono bambina, io ho iniziato a leggere, mia mamma mi ha iniziato a leggere che io avevo 5 anni e a 7-8 anni leggevo Jules Verne, quindi non è che proprio leggevo roba per l'età. Mi dovevano strappare a forza il libro di mano per mangiare, ecco, io leggevo a tavola se mi lasciavano fare, ecco, non mi lasciavano fare, lo dico. Io sarei rimasta con il libro aperto a tavola, ora che a volte mi trovo a pranzo solo, spesso per i piedi ho qualcosa di aperto mentre leggo. E proprio questo è uno dei grossi difetti, il primo grosso difetto macroscopico prima di andare a parlare delle scelte lessicali, prima di parlare della nomenclatura, che è proprio una cosa che a quel punto diventa proprio una punta dell'iceberg. Diventa la cosa che nota noi più, nel senso che chi solamente guarda il testo, ma chi legge nota altro prima della nomenclatura. E nella lettura ti blocchi, ti trovi con... Io penso che uno dei punti dell'inizio che mi sia rimasto più impresso è stato, perché diciamo da un mezzo trauma, la descrizione delle case degli Hobbit. Forse avete capito cosa mi riferisco. Allora, mi sembra che ci sia un'occorrenza sia nel prologo che nel primo capitolo, se è quello che io pensi. Se è quello che ti pensi, vediamo un po' se è quello lì. Sì, esatto, è quello che pensi. Perché le loro case in genere hanno lunghe, basse e comode. Quelle più antiche, a dire il vero, imitavano nella conformazione gli smial con il tetto d'erba secca o paglia o coperto di cotica. Ma a me la cotica è la codenna del maiale. Io sono arrivata lì e ho detto, cotica? Ora, piccola premessa, se io, che sono laureata in lingue, faccio la traduttrice per il lavoro da 12 anni, non sono traduttrice letteraria, sono traduttrice tecnica e ho diversi ambiti di lavoro. Perché io lavoro nel tecnico informatico, lavoro nel meccanico tipo automobilistico, lavoro nel medicale e lavoro nel legale. Quindi non è che proprio faccio dei campi facilissimi, va bene? Leggo da quando ho 5 anni, ma leggo anche roba pesante. Io, Toscana, cotica, come erba, come manto erboso, non l'avevo mai trovato. E questo è un esempio dove, vado a vedervi nell'originale, nell'originale, Tolkien parla di turf. Turf, come parola, è immediatamente disponibile ad un inglese, mentre cotica, da noi, non è immediatamente disponibile nel significato di manto erboso. E questo non lo dico io, lo dice la teoria dei campi semantici. Cosa sono i campi semantici per i non traduttori? I campi semantici sono una serie di significati che vengono attribuiti ad ogni parola. Ogni parola ha una serie di significati, perché può avere più di una traduzione. Specialmente quando si parla di traduzioni, i campi semantici vanno sempre confrontati, perché devi trovare non tanto la traduzione, non esiste una traduzione giusta quando si parla di letteratura soprattutto, ma devi comparare i campi semantici e vedere le parole dove i campi semantici collimano il più possibile. Quindi, perché per un turf mi devo trovare cotica? Perché quando stanno prendendo la scorciatoia per il bosco, a un certo punto si trovano e dicono che finiscono in questo tronco cavo il cui piancito era fatto di moschie, foglie secche, una cosa di questo genere. Ora, io a piancito ci sono arrivata perché sono toscana e da noi si dice piantito, è il pavimento. Ma nel testo si trova due volte lì e subito dopo, quando arrivano alla nuova casa, quella dove in teoria si dovrebbe trasferire Frodo, fanno il bagno perché sono completamente sudici e parla di piancito coperto d'acqua. Ora, una persona che non è toscana e che non ha l'abituazione a piancito, piancito non lo indovinerà mai. E questa è una cosa che si ripete in continuazione. Spesso e volentieri alcuni termini usati sono termini dialettali del centro e questo crea nel lettore o della zona sud Italia o della zona nord un momento di spaeseamento totale. Altre volte c'è un'altra cosa che dicono, questa traduzione ha ripristinato il cambio di registro che nell'Aliata era stato tutto messo in alto. Tolkien nei dialoghi ha effettivamente dei forti cambi di registro tra gli Hobbit, Gandalf, gli Elfi, i Nani, durante il concilio di Erlond, i Nani si fanno molto molto importanti, parlano a paroloni, va bene. Però Tolkien è molto più regolare nel narrato. Certo che c'è una differenza tra quando descrive la Contea e quando descrive Moria, ma non è mai una differenza così marcata come nel parlato. Quindi, quando ci si trova nello stesso paragrafo a passare da una parola molto comune, molto terra terra a una parola molto alta o molto tecnica, ci si trova doppiamente spaisati. C'è proprio questo momento di, come se fosse una frenata brusca, sei in macchina ti danno una frenata e per poco non dai una facciata nel vetro. Cioè l'effetto è quello spesso e volentieri leggendo. Io l'ho voluto valutare innanzitutto come lettrice e quello che notavo è che se lo dovessi leggere la voce alta avrei dei problemi. Non considerate adesso che ho letto e passi talmente tante volte che probabilmente sono più scorrevole, ma leggere la voce alta diventa problematico perché arrivi a quei punti che non sai magari quella parola o non ti è familiare o stona nel paragrafo e ti blocchi, è naturale, ti blocchi, succede. A proposito di quello che è stato detto in precedenza, per quanto riguarda la traduzione concotica. So che è stata data una risposta, cioè non dal traduttore in persona ma comunque dalle persone che l'hanno, diciamo, supportato in questa impresa. La risposta ufficiale sarebbe quella che siccome il termine originale inglese è al plurale ed è un plurale che non è, diciamo, particolarmente diffuso perché è il plurale con la v invece che con la f, allora la risposta ufficiale è che il traduttore utilizza cotica, questo termine ovviamente straniante per il pubblico italiano, per cercare di rendere il fatto che in originale c'è questo plurale che è tarms. La domanda è, a quanti inglesi sarà venuto questo dubbio? Cioè un inglese che vede un plurale in v invece che con la f, in realtà si trova davanti ad una variazione linguistica possibile nella sua lingua. Wolf diventa wolves, elf diventa elves di solito, quindi si trova davanti a una variazione completamente naturale nella sua lingua che capisce, comprende cosa sta succedendo in maniera istintiva per la sua lingua. Il cambiamento invece tra manto erboso, prato, potevano mettere quello che gli pareva, e cotica invece non è un cambiamento solo di morfologia della parola, perché terfs al plurale con il v è un cambiamento morfologico rispetto a terfs con la frs. È un cambiamento proprio di completamente dilemma, quindi sinceramente quello è un livello di significato che nella traduzione personalmente avrei tralasciato, perché non aggiunge niente di utile al lettore, crea anzi un momento di non comprensione al lettore italiano, ma non lasciandogli quel sapore strano che può lasciare terfs nell'originale. Gli lascia solamente un ma perché cavolo ha usato sta parola fondamentalmente. Quindi quando parlo di dare al lettore della lingua di arrivo la stessa esperienza del lettore della lingua di partenza, è chiaro che quello è l'obiettivo massimo, ma non è raggiungibile al 100%. In genere si dice che la perfezione non esiste, si può arrivare al 97% di essa. Perché il 97%? Perché l'ultimo 3% costa talmente tanto lavoro che non vale la pena farlo. Il risultato è ottimo lo stesso. In questo caso io avrei tralasciato quel dettaglio perché a livello della storia, a livello della comprensione, non c'era maniera di fare un parallelo perfetto in italiano, a meno di non fare un cambiamento morfologico su una parola in italiano. Ma in italiano abbiamo una formazione del plurale completamente diversa rispetto all'inglese. Quindi sinceramente è una spiegazione che non esito a definire una rampicata sugli specchi. Tra l'altro io avrei anche una cosa da dire a questo proposito, che in realtà questa cosa del plurale è vera solo per il prologo. Perché nel prologo effettivamente se prendiamo il testo originale c'è il plurale. Sì. Ma nel primo capitolo c'è il singolare. Poi non so nell'edizione in volume unico che questa cosa sta. No, no, Cotica penso che sia rimasto. A quel punto doveva mantenere Cotica, l'aveva messa all'inizio, lo doveva ripetere. Per una questione di coerenza interna di produzione. Però rimane il fatto che è una forzatura per fare cosa? Per dare lo stesso stenso. Non viene straniato così tanto il lettore inglese da un plurale leggermente atipico. Poi uno dei miei vocabolari cartacei d'italiano è vero che è del 98, ma è un Treccani. Sul Treccani, questo secondo significato di Cotica come zolla erbosa, sul mio Treccani del 98 non c'è, per dirti. Io l'ho trovato online. Non c'è sul Treccani online che è aggiornato, ma su quello cartaceo non c'è. Quindi crea anche una complicazione anche a chi volesse approfondire. Se uno non usa internet o non è pratico. Può anche essere una persona che non è pratica ad usare il computer. E mica sono tutti nativi digitali o anche persone che sono abituate ad usarlo. E se uno va a consultare un dizionario che non è meno che alto, due volumi alti così, può darsi che non lo trovi. Perché ci sono talmente tanti lemmi che non è detto che tutti i significati meno usati vengano riportati. È una questione di frequenze. È una questione di frequenze d'uso. Quindi fondamentalmente la problematica di questo testo è che non ti tiene ancorato alla storia. Questo è il più grosso difetto che io ci vedo. Non ti tiene ancorato alla storia. Da qui la mia domanda. Quando il traduttore ha avuto l'incarico, quale ha pensato che fosse la prima cosa da fare nella sua traduzione? Perché la mia impressione, leggendo questo testo, sentendolo parlare, ripeto, potrei sbagliarmi e potrei essere prevenuta io. Lo ammetto. Dopo un anno ci sta. Però la mia domanda è, per chi hai fatto questa traduzione? Per chi è stata fatta questa traduzione? Perché non è stata fatta per il lettore che vuole prendere, mettersi in poltrona un'ora e passare un'ora nella terra di mezzo. Poi ci sono dei punti che sono molto belli, delle traduzioni che possono essere più o meno azzeccate, delle soluzioni che possono anche essere meglio di quelle dell'agliata. Però in generale non c'è un'omogeneità, non c'è una coerenza in questa traduzione. Ed è questa la cosa che forse danneggia di più questo libro. Sono proprio d'accordo con, cioè nel mio piccolo ovviamente, non essendo ricambi. Ma tu sei una lettrice, capisci che secondo me tu sei la prima a dover avere, cioè non il controllo, però a dover essere tenuta in considerazione per il feedback su questa situazione. Tu dici, te sei una traduttrice, sei tecnica, lo valuti troppo dal punto di vista tecnico. Vero, ma sono anche una lettrice, sono una lettrice educata. Mio marito non è un lettore educato, nel senso che non è un lettore traduttore. Lui è un lettore, tra l'altro mio marito legge proprio per svago. Quando gli leggevo i pezzi della storia mi guardava male e lui il Signore Duranelli l'ha letto prima di me. Io l'ho letto a 17 anni, lui l'ha letto prima. Fondamentalmente questo è il più grande problema che ha questo testo. Quando leggevo il testo fatto come te io avevo il cartaceo di la versione dell'agliata, la versione di fatica e la versione in inglese. Avevo aperto World Reference, che è il mio dizionario di riferimento per l'inglese online, che uso per lavoro, quindi è un ottimo dizionario. Avevo aperto dizionario etimologico, avevo aperto diversi dizionari anche online, io principalmente online perché avere altre due robe grosse aperte sulle gambe non è. A un certo punto ero nel letto con quattro cose aperte, cioè già. E i confronti con la versione dell'agliata sono stati abbastanza pochi in realtà, era solo curiosità. E a volte ho detto, tra le due soluzioni non so nemmeno quale è quella che mi piace di meno, che sia chiaro. Mettiamo anche sul piatto le situazioni in cui sono state fatte, le condizioni in cui sono state fatte queste due traduzioni. La traduzione di fatica viene fatta dal 2018 in poi con tutto il leggendario a disposizione, anni e anni e anni di studi sul Silmarillion, sulla History of Middle Heart, su tutto, cosa che tra l'altro secondo me non era nemmeno fondamentale e necessaria, però era una risorsa in più a cui attingere. E con degli strumenti computer, cut tools, dizionari online, dizionari comunque anche importanti che esistono in versione digitale, quindi molto più semplici da consultare. La possibilità sul testo, sui laboratori di testo di cancellare, togliere, modificare direttamente il testo senza dover ribattere tutto da capo. L'Aliata ha fatto la traduzione a 16 anni con una macchina da scrivere, i dizionari che aveva cartacei e aveva giusto il testo del Signore degli Anelli, mi pare il primo libro e basta, e poi il secondo perché ha tradotto anche le Due Torri e le appendici. Che il testo dell'Aliata contenga errori ci sta, ci sta. Ma qualsiasi traduzione conterrà elementi che altri ritengono essere errori, perché chiaramente un traduttore traduce secondo la propria sensibilità. Quando si parla di approcci scientifici alla traduzione, io sono sempre un po' perplessa, perché per natura stessa il metodo scientifico funziona che a parità di condizioni, se ripeti lo stesso esperimento otterrai lo stesso risultato. La traduzione non è così. Io posso dare la stessa frase a 10 traduttori diversi e avere 10 versioni diverse della stessa frase, perché è una cosa estremamente soggettiva. Per questo quando si affronta un lavoro di traduzione è necessario prima di tutto mettersi dei paletti, mettersi dei criteri secondo cui fare la traduzione. Il cui primo per me deve essere per chi sto traducendo questa traduzione. Cosa sto traducendo? È un trattato? È un saggio? È un articolo di giornale? È un manuale di un ventilatore ospedaliero? È un manuale di un televisore? È un romanzo? È, non lo so, un libro filosofico? Per quale range? È per un esperto o per un principiante? Perché io posso scrivere lo stesso identico argomento in tantissimi modi diversi a seconda del livello di esperienza a cui mi sto riferendo. Quindi se questo testo qua che è quello in inglese è leggibile ed è leggibile da un 17enne, un 16enne, ma anche un ragazzo, una persona, un ragazzo italiano che abbia una conoscenza di inglese e parla alla terza o quarta superiore non sarà compreso al 100%, ma in prima lettura quale libro viene compreso al 100%? Nessuno. Perché esistono gli strati di lettura, esistono i livelli di lettura che si approfondiscono a seconda dell'interesse che il lettore ha per quel testo. Ma se questo qui è comprensibile a quel livello, perché questo diventa incomprensibile a una laureata? Qui, oltre che fatica, che può aver deciso di fare una traduzione per gli studiosi e è una scelta rispettabile, è una scelta ammissibile, lì il criterio lo doveva mettere la casa editrice. Quindi, buon piani giunti, perché avete scelto questo testo di non farlo collimare come esperienza di lettura con l'originale? Ed è abbastanza inutile che ogni volta che vengono fatti questi convegni ci sia sempre chi dice, ma Tolkien è molto più complicato. Sì, è vero, Tolkien è molto più complicato se tu scavi nel profondo. Ma tu questo libro te lo puoi leggere come la storia di questi Hobbit che, per sbaglio, si trovano in una storia più grossa di loro. Non hai bisogno per forza di vedere tutto sotto testo filosofico. Poi possiamo discutere delle singole scelte, quanto volete. Ci sono delle scelte che non ho trovato coerenti, poi ne parliamo. Però è proprio, in primis, è una questione di quanto ti fai leggere. Questo testo qui non si fa leggere, non ti fa venire voglia di prenderlo, magari in una giornata piovosa davanti al cammino, involtolati in un plaid metterti. Cosa che mi fanno magari libri di autori meno otitolati, meno blasonati, però ben tradotti. Ma quindi io, per esempio, non ho letto la nuova traduzione perché volevo aspettare, perché la mia amica, appunto, mi ha detto guarda se ci sono queste cose un po' strane, la lettura non è molto fluida. E io, dato che sono dislessica, mi sono fatta la domanda, ma mi conviene prenderlo, mi conviene leggerlo? Quindi la domanda è, la nuova traduzione per un dislessico. È scorrevole come mi avevano detto, come facevano passare all'inizio? Oppure proprio dislessico, mi dispiace tanto, trovati un'altra traduzione o vai direttamente con l'inglese? Guarda, la questione è questa. Io non sono dislessica, però lavoro con i ragazzi dislessici quando do ripetizioni, perché do ripetizioni di lingua, quindi mi sono trovata a lavorare con ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, ho amici che sono dislessici, quindi mi sono un po' rifilita alle loro esperienze da questo punto di vista. E a quello che so di come funziona la dislessia. La questione è questa, una persona, correggimi se sto dicendo cavolate, ti prego. Allora, innanzitutto, credo, non so se il carattere usato ti aiuterebbe. Non è scritto tanto piccolo come dimensione, però non so se il carattere usato ti aiuterebbe a leggere, però quello si può dire per quasi qualsiasi libro, non sono tanti quelli impaginati apposta per essere leggibili facilmente da persone con disturbi specifici dell'apprendimento. Detto questo, se in lettura tu tendi a uscire facilmente dalla storia, se c'è qualcosa che ti disturba, che disturba la tua sospensione dell'incredulità, allora farai molta fatica a arrivare in fondo a questo libro, perché ho fatto fatica io. Ho fatto fatica io, io non sono dislessica. Io considero che Il Signore delle Anelli, quello in italiano, l'ho lessa a 17 anni e ci misi una settimana a leggerlo, perché avevo due interrogazioni quella settimana, quindi dovevo studiare. E quindi non potevo passare tutto il mio tempo a leggere. Andavo al liceo, avevo scuola tutta la mattina, leggevo nebuchi, però poi il pomeriggio bisognava che studiassi, perché avevo le interrogazioni. E ci ho messo una settimana. Ora, non posso comparare a quanto ci ho messo a leggere La Compagnia dell'Anello, perché ci ho fatto un lavoro diverso, però sicuramente mi sarebbe interrotta molto più spesso. Era diventato, anche facendo questo lavoro, una sorta di un compito anche un po' faticoso, ok? Quindi, sinceramente, in lettura ti farebbe fatica, secondo me. D'altro canto, mi chiedo, quanto sarebbe ascoltabile un audiolibro, che potrebbe essere un'ottima opzione per una persona dislessica? Gli audiolibri li uso anche io, ok? Li adoro, io li adoro. Mi sono ascoltata The Martian, Il Spervissuto, mi sono ascoltata Atemis, lo stesso autore. Che consiglio, tra l'altro? Sono bellissimi i libri entrambi, molto leggeri, tradotti bene. Però non so quanto questo libro possa essere reso bene da un audiolibro, perché ci vorrebbe veramente un narratore che riuscisse a non cambiare voce mai, anche di fronte alle cose strane. Quindi, punto uno, quanto ci metterebbe a registrarlo? Sono professionisti, certo, ma se si trovano davanti a qualcosa che non torna, si bloccano anche loro, perché sono umani. Comunque, in ascolto, nel momento in cui ti arrivi a questa cosa di coperta di cotica, tu rimani, c'è il momento di shock e magari ti perdi 15 secondi dopo. Succede. La parte che mi ha lasciato per ancora più perplessa della cotica è stata, nel capitolo Una congiura smascherata, a un certo punto, Maria Pippin, tra l'altro il nome di Pippin lasciato in inglese, vabbè, lasciamo stare, cioè questa canzone è composta sulla falsa riga della canzone dei nani, attaccata da Bilbo partendo per la sua avventura tanto tempo prima. E il motivo era lo stesso. Quindi, in teoria, quello che ho capito dalla storia è che questo pezzo si sarebbe dovuto cantare in originale su Misty Mountain Falls, partendo dal presupposto che far tornare una poesia sulla stessa metrica, una poesia in italiano sulla stessa metrica della poesia in inglese, è un lavoraccio e tradurre le poesie è un lavoraccio e per avere maggiori informazioni su quanto sia dura a tradurre queste poesie c'è un blogger che fa un lavoro fantastico, lo trovate come Chelo Poeta, scritto con la cappa, e lui è veramente in gamba da questo punto di vista, fa un'analisi veramente precisa, cosa che io per esempio non sono in grado di fare. E questa canzone in realtà inizia con le prime due quartine che sono anche belline, perché addio al camino e al portoncino, tiri il vento o faccia brina, via di torno anziché giorno, via per boschi e per colline. Ricordiamoci che è una canzone Hobbit, quindi molto terra terra. A Valforra di Elfiterra, in piani ove la foschia a terra, perlanda o steppa e gangaloppo ha una meta che non si afferda. E fino a qui considerate che anche l'originale non è particolarmente liscia come canzone nel senso. Dopodiché la quartina successiva inizia con dietro l'abietto l'oste a petto, sotto il cielo avremo il letto, finché il cimento avremo vinto ed il dovere nostro fatto. Ma via di torno, ma via di torno, ce ne andiamo anziché giorno. Quando sono arrivata a questo dietro l'abietto l'oste a petto, ho avuto un momento di what. Secondo voi cosa vuol dire dietro l'abietto l'oste a petto? Lì per lì dico vabbè una canzone, però non so che vuol dire, lo ammetto. E poi questa parola tra una cosa e l'altra non l'ho neanche cercata. L'oste, sinceramente pensavo l'oste dell'osteria, della locanda, parlando di Hobbit. Ti leggo l'originale in inglese, solo di questa quartina. With foes ahead, behind us dread, beneath the sky shall be our bed, until at last our toll be passed, our journey done, our errands bad. Quel verso corrisponde a with foes ahead, behind us dread. Che sarebbe con i nemici di fronte, dietro di noi il terrore. Uguale proprio. Aspetta, va bene che abbiamo un'inversione, cioè la prima parte del verso corrisponde alla seconda parte in italiano e viceversa. Ma il fatto è che questo oste a petto è letteralmente nemici di fronte. Come però? A petto è un vecchissimo modo per dire di fronte, ha un'origine molto simile a dire in petto, ma si usa veramente di rado. Infatti io non l'avevo mai sentito, però... Quell'oste non è l'oste della taverna. Quell'oste è derivato da hostis hostis, che in latino vuol dire anche nemico. Quindi vuol dire dietro l'abietto, che poi l'abietto in questo caso non c'entra nemmeno tanto, perché lì dice behind us dread, cioè dietro di noi il terrore. Invece l'abietto è chi compie un'azione nefanda. Paroloni di sto sola anch'io quando vogliamo. Ma questo oste a petto è letteralmente un latinismo con un arcaismo, che nella canzone non ci sono. Quindi questo è un esempio di cambio di registro in marcia, dove non c'è cambio registro. Io perché ho fatto latino, ma se non avessi fatto latino non mi sarebbe manco venuto il dubbio che Ostia avesse un'origine diversa. sono andata a cercarmelo, a confermarmi l'intuizione, come sempre. Però chi non ha fatto il latino, che magari viene da una scuola tecnica, magari è pure lavorato, ho fatto tutto un percorso di studi avanzato, ma se non hai confidenza con il latino questa cosa... Cioè confidenza, poi la mia confidenza con il latino è scaduta da mo'. Però nel senso ci ci vuole un attimino di conoscenze che... Perché io devo avere delle conoscenze specifiche che al lettore originale non sono richieste? Io pensavo si riferisse a Cactaceo, tipo, ma non ha senso. E invece parla del nemico, perché... With force ahead. Quell'oste traduce force. Quindi considerate che queste sono le parti che ti fanno togliere dalla concentrazione. Io non ho riscontrato, leggendo il Signore dell'Anelli in inglese, un cambiamento di registro così drastico da giustificare l'utilizzo di arcaismi così vecchi, ma proprio così anche poco utilizzati, e di latinismi puri. Per non parlare del fatto che l'utilizzo di... A un certo punto dice poggio. Poggio è una cosa tipicamente toscana per indicare la collina. Cioè, poi diventa la scena del ciclone quando si ferma l'autista del pulmino che è milanese e imperacioni gli fa il poggio più in là e lui gli dice che una mia amica e collega traduttrice che a Di Como ha avuto molte più difficoltà di me a capire certe cose perché erano talmente avulse da quella che la sua parlata che aveva molta più difficoltà a comprendere. Anche a cercare di intuire il significato di alcuni pezzi. Poi ci sono degli utilizzi molto... Io per esempio non ho apprezzato per niente l'utilizzo del prepubere al posto del twins, quando parla di frodo quando viene adottato, che è sbagliato su tanti punti di vista, innanzitutto è troppo tecnico, è troppo medicale. Seconda cosa, con i twins si intendono gli anni tra i 20 e i 29 degli hobbit che sono un po' l'equivalente della nostra adolescenza, se vogliamo. Infatti tanto è vero che Tolkien crea una parola che è la fusione di 20, di team, twins. E lui mi va a un prepubere, ma prepubere è prima degli 11 anni, ragazzi. È adolescenziale, quindi è proprio sbagliato. Infatti lo ricordo come uno dei miei primi inciampi. Sì, 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 quel prepubere sì, ci inciampi subito. E tra l'altro, se non mi sbaglio, l'agliata l'aveva un po' risolto parlando dell'età degli enti, degli enta. Non è che l'aveva risolta nella stessa maniera, aveva perso un po' di significato, si perdeva un po' di riferimento rispetto a quello che aveva fatto Tolkien, ma questo è un rischio che in traduzione si corre sempre, perché non esistono due lingue che abbiano una sovrapposizione diretta e perfetta dei campi semantici delle parole. A volte quello che dobbiamo scegliere traducendo è a quale significato dare la precedenza. A volte si risolve sdoppiando la parola. Quindi nella nuova traduzione quali sono i principali difetti oltre a questo cambio di termini che distruggono? Allora, il cambio di termini che crea questo, determina questo cambio di registro interno al narrato. Secondo me non tutte le voci dei personaggi sono azzeccate. Sam per me è bellissimo. Come parla Sam mi è piaciuto tanto, veramente, lo dico con sincerità. Ha un modo di parlare che mi fa stiantare dal vedere e fa proprio Sam. La voce che odio di più in questa versione, che secondo me è assolutamente inadeguata, è Gandalf. Gandalf è completamente errato. Perché Tolkien dice di Gandalf che lui è un uomo saggio, che sì, a volte fa il burbero, ma parla sempre con saggezza e parla sempre in un modo abbastanza costante, abbastanza impostato. C'è una lettera dove lui racconta proprio di come parla Gandalf. Fatica a Gandalf fa dire che si è sciroppato Gollum. A un certo punto dice, meravigliosamente, è a casa di Bilbo, dopo che Bilbo è sparito dalla festa, va bene? Sta cercando di convincere Bilbo a lasciare l'unico anello. Alla fine non è che lo abbia reso più facile, ma sarebbe un peccato sprecare tutti i miei preparativi. Rovinerebbe completamente lo scherzo, dice Bilbo. E Gandalf risponde, direi che verrebbe a mancare l'unico motivo valido per aver montato tutto questo bailamme. Che? Bailamme, questa confusione, questo caos. Ma perché Gandalf mi usa bailamme? Io soprattutto su quel prepubbere là, un muro di giù, pareva di sbattere contro un muro figurativamente parlando. Anche perché poi come tu dici, giustamente, è proprio sbagliato dal punto di vista del significato. Il significato è sbagliato, sì esatto. Ma io dico, no? Ammettiamo che una cosa può sfuggire al traduttore. Ma non dovrebbe sfuggire all'editore, non dovrebbe sfuggire al correttore di bozza, all'editor, al truth reader, al beta reader, chiamatelo come vi pare, non gli dovrebbe sfuggire. Faccio un controllo più spietato io sulle mie fanfiction con l'aiuto della mia beta reader. Cioè una cosa del genere, a una persona che revisionavi il testo, dovrebbe saltare subito all'occhio. Come sarebbe dovuto uscire fuori, cioè Balaam e Prepubere, lo sono dovuto sciroppare. Ci sono tante stanze dove Gandalfa un momento di parlata che è out of character, si dice, nel mondo delle fanfiction. Va bene, fuori personaggio. Oh, oh, sì. Non sembra lui. Potrebbero bannare per questo. Sì, sì, ti possono bannare per questo. E a volte succede anche con gli Hobbit. C'è un momento in cui Merry e Pipino parlano, loro che parlano normalmente abbastanza terra terra, poi sono giovani loro, a un certo punto fanno un discorso che diventa aulico e l'originale non è in quel modo. E ripeto, ho fatto il confronto quasi tutte le cose con l'originale. Alcune cose ho preso in mano anche l'agliata, ma solo perché ero curiosa di vedere a cosa ero abituata. E magari la soluzione dell'agliata non mi era piaciuta lo stesso, è successo anche questo. Però se si fa una nuova traduzione si dovrebbe puntare a migliorare, a eliminare quelle che sono le criticità di quella precedente. E invece qui si è andati proprio a crearne di nuove. Sono d'accordo. Sono d'accordo per me pure proprio così. Ma te l'ho detto, è proprio l'esperienza di lettura che a un certo punto diventa fastidiosa. Più avanti avrai, peggio è. O almeno per me è stato così. Sì, sì. Io sono arrivata in fondo alla compagnia dell'anello perché avevo promesso che ci sarei arrivata, perché stavo facendo un tipo di lavoro apposta. Ma ho fatto una fatica. Ho veramente avuto difficoltà ad arrivarci in continuazione. unità. Forse è stato un altro libro, probabilmente l'avrei letto così. Forse è stata un'altra versione. Ripeto, la prima versione è che tutti dicono che era molto difficoltosa. Io avevo 17 anni appena compiuti proprio perché era maggio e me lo sono bevuta. Me lo sono letto in una settimana mentre studiavo. E se non mi sbaglio mi è assorbita pure l'introduzione di Elmer Zolla che secondo me è una roba che hanno fatto bene a togliere. Ma io quella non m'annoiava, l'ho sempre saltata. Sì, no, proprio. Quello è l'esempio di come in Italia il Signore dell'Anelli sia stato preso, preso da un elite, da persone che si consideravano di una certa elite culturale e gli è stato schiaffato addosso dei significati che non aveva. La mia impressione è che il risultato finale di questa traduzione ottenga la stessa cosa. Cioè che questo libro sia riservato ad un elite di persone che pensa come il traduttore, che legge le stesse cose del traduttore, che parla come il traduttore perché a fatica lunedì io ho sentito dire la locuzione uomo di vaglia che la prima volta che ho trovato la cosa in realtà in quel momento era mago di vaglia, l'ho trovata nella sua compagnia dell'anello. Vuol dire mago di valore, uomo di valore. Non l'avevo mai sentita in vita mia. Ragazzi, ma io ho studiato Shakespeare, ho studiato Joseph, ho studiato la traduzione, ho studiato lettera. Abbiamo fatto, avevamo un insegnante di lettere al liceo, abbiamo fatto Dante, l'abbiamo preso per tutti i versi. Dante, ora abbiate pazienza. Non mi considero e mi rifiuto categoricamente di considerarmi una persona che non ha un buon lessico. Se lui ha contaminato il suo testo con il suo ideoletto pensando che fosse l'ideoletto generale di coloro che leggevano il libro, è un errore da parte del traduttore. È un errore di concepimento della traduzione, è un errore di approccio alla traduzione. È legittimo? Sì, lo puoi fare. Però non mi venire a dire che questa traduzione è leggibile da un 17 anni. Ma io pensavo, vabbè, io ti dicevo l'ho letto abbastanza tardi, diciamo, la vecchia traduzione, però tu a che età l'hai letta? Che non mi ricordo la vecchia traduzione. Io l'ho letta a 18-19 anni, perché dovevo leggerla per la maturità, allora ero già anch'io un po' tardi. Però ammetto che la prima volta che ho letto la traduzione dell'Aliata e siano disvesti che ho fatto leggermente fatica. Però poi di leggendo la seconda volta... Che ti aspettavi già, sapevi già dove andavi a parare e quindi era più facile, perché nella difficoltà, almeno quando la mia amica, che ama leggere anche lei, però è fortemente dislessica, lei mi dice che tu da me è proprio quanto si stanca a interpretare i segni grafici. Sì, quello sì. Una mia amica l'ha letto Il Signore dell'Anelli, in versione all'Aliata che aveva 12 anni. Però... E l'ha letto tranquillamente. Questo significa essere alla portata di tutti. Non avrà capito tutto alla prima lettura. È come se mi dite che avete capito tutte le battute la prima volta che avete visto un film della Disney. Io personalmente a 36 anni ancora scopro battute che non ho capito e rimango... Ok, cioè ci sono anche le restate di visione dei film per bambini che ogni tanto rimango... Ma hanno messo questa cosa di un film va bene? Sì, ma infatti secondo me è appunto una questione di livelli, cioè esistono magari non solo a livello comunque di contenuto, ma anche appunto a livello linguistico esistono evidentemente degli strati per cui tu a una certa età magari cogli quello che è lo strato immediato. Sì. Ma comunque capisci, cogli qualcosa, no? Che resti là e dici che vuol dire. Ma poi non tutti quelli che leggono un libro, qualsiasi libro sia, poi vogliono approfondire ogni singola riga di quel libro. Ci sono quelli che lo vogliono fare e lo faranno, ma ci sono quelli a cui non interessa e sono contenti magari di aver letto un buon libro. Poi non abbiamo tutti gli stessi gusti, per carità, c'è gente che adora il gatto paddo, io non sono arrivata oltre un terzo, o c'è gente a cui per esempio Alexandros di Manfredi è piaciuto tantissimo, io ho adorato il primo libro, il secondo così così, il terzo lo lascio a metà. Io poi sono anche una che lascia i libri a metà se non gli piacciono, se non le piacciono, perché non ho tempo da perdere nei libri che non mi piacciono. E quindi la difficoltà da questo punto di vista è che proprio ti impedisce questa versione di prendertela, a meno che tu non abbia esattamente lo stesso deletto del traduttore e lo stesso identico modo di pensare, di considerare quel tipo di letteratura del traduttore, ti impediscono di prenderlo, di metterti in poltrono e di leggertelo alla maggior parte. Poi ci sono le persone a cui piace e ripeto è legittimo perché la traduzione è soggettiva, ma io ne faccio una questione di concezione generale. Qual è l'obiettivo di Bonpiani Giunti per i libri? Qual è l'obiettivo di una casa editrice per un libro che venga venduto il più possibile? Ora, io non guarderei le vendite del primo libro, perché il primo libro anche solamente per curiosità ce lo siamo comprati in tanti, per esempio il secondo e il terzo non me li metto in casa e non mi metto in casa nemmeno il volume unico, ce l'ho già, ce ne sono già due di volume unici, una versione l'ho stata Alan Lee e la versione da battaglia che ho letto a 17 anni, non me ne metto un'altra copia in casa, di una versione che non mi fa impazzire. E considerate che io dopo che ho letto Il Signore degli Anelli ho avuto una febbre da Tolkien terribile, io in casa ho letto Silmarillion, racconti ritrovati, racconti perduti, racconti incompiuti, la realtà intrasparenza che è la raccolta delle lettere, le lettere di Babbo Natale, robe random, mi ricordo che bazzicavo in questa libreria di libri usati, ho anche un sacco di roba in edizione Rusconi, che voglio dire. Era già di proprietà Bonpiani quando io ho comprato il primo libro Il Signore degli Anelli e a casa mia non si leggeva Fantasy, per esempio. Quindi diciamo, per riassumere tutto quanto, ragazzi, prima di comprare una nuova traduzione o prima di fare un regalo, leggete almeno qualche pagina per vedere se vi garba. Tendenzialmente su Amazon normalmente c'è la possibilità di leggere un piccolo estratto del libro, io consiglio di leggere magari un piccolo estratto del libro, se vi piace lo comprate, se non vi piace risparmiate i soldi. Personalmente trovo che se dovessi regalare Il Signore degli Anelli lo consiglio comunque per i ragazzi a partire da 14-15 anni non di meno, tranne eccezioni perché è effettivamente un po' pesante in certi momenti e quindi ha bisogno di una certa pazienza da parte del lettore. Però questo è un libro che a 14-15 anni non riesce ad affrontare. Ad un certo punto parla di matricina, parla della radice dell'alberello dell'albero bianco di Gondor e parla di matricina. Matricina in termini tecnico della selvicoltura. Ci sono dei punti dove veramente si fa riferimento, si fa utilizzo di un lessico tecnico, di tecnicismi, di arcaismi molto desueti, visto che questa parola è tornata di moda e quindi può dare difficoltà in lettura. E ripeto, se si vuole far amare la lettura ai ragazzi di oggi che già la odiano a prescindere per chi gli viene fatto odiare, non puoi proporre un libro che ti scaraventa fuori dalla storia dopo ogni tre secondi. Ogni due paragrafi incontri qualcosa che ti blocca in media. È veramente difficoltoso, ti crea veramente un momento di stress che quando uno legge letteratura secondo me non dovrebbe avere. Grazie per questo approfondimento. Almeno sappiamo dove andare a parare, sappiamo dare un consiglio ai futuri lettori e ai dislessici, non compratelo perché sennò avete spiegato i soldi inutilmente. Io non lo so, tu l'hai mai vista le pagine del libro? Oddio, il carattere è un po'... Sì, infatti, perché io tra l'altro non ho fatto uno studio molto approfondito su quali sono i caratteri migliori per agevolare la lettura nei disturbi specifici dell'apprendimento, però so che ci sono questi caratteri che normalmente si dovrebbe stare attenti a impaginazioni, distanziamento, distanziamento tra le parole per rendere proprio più facile questa distinzione. E' anche una questione di inclusività, alla fine, perché è un argomento che a me sta molto a cuore. E' anche una questione di inclusività. Per me questo libro per certi versi è abilista, tradotto come è tradotto adesso, e non è inclusivo dal punto di vista dell'età, perché mi toglie, taglia una grossa fetta sotto un livello di università, e quindi mi esclude un livello di età e un livello di titolo di studi. Altro perché io posso sopportare di non capire una parola, di andarmela a cercare, magari io ne vado a cercare una in meno rispetto ad altre. O altre persone che magari non hanno lo stesso titolo di studi, non hanno la stessa preparazione linguistica che io, possono avere molte difficoltà. Quindi da un punto di vista dell'inclusività non è un buon prodotto. Ecco. Che non vuol dire semplificare la lingua per renderla disponibile a un bambino di 4 anni. Puoi farne una versione riassunta per i bambini di 4 anni. Avevamo le versioni riassunte di Odissea e di Liade quando eravamo ragazzini. Ma vuol dire che mantenere se non altro lo stesso livello dell'originale non viene mantenuto. Secondo Fatica sì, a dati di lettori alla mano, dati intendo statistiche alla mano, no. Grazie per l'informazione. Quindi secondo me siamo arrivati al punto della situazione. vi abbiamo dato il consiglio. Quindi grazie per essere stata qui per la prima parte. Ok. E se ti va, Mel, non ci vediamo poi alla seconda parte sulla traduzione molto più specifica. Ok. Grazie. Grazie a voi. A presto. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.